Ci troviamo nel serbatoio cosiddetto delle Rocche Rosse nel comune di Sciacca. Si tratta di uno dei tre appresamenti che AICA ha indicato agli autobottisti di Sciacca per poter riprendere regolarmente l'erogazione. Ricorderete che gli autobottisti si sono fermati per diversi giorni dopo aver lamentato la riduzione della pressione nel bocchettone di Contrada Sovaretto che sostanzialmente gli impediva di fronteggiare le richieste perché una pressione ridotta evidentemente richiedeva molto tempo per poter effettuare l'approvvigionamento delle autobotti. Ma anche qui non è che le cose sembrano che stiano andando nel migliore dei modi. Per esempio da questo appresamento sono necessari almeno dai 15 ai 20 minuti per completare un approvvigionamento. Gli altri due appresamenti indicati da AICA e gli autobottisti sono quello di Contrada Ferraro e quello di Contrada Sovaretto. Abbiamo appreso dagli stessi autobottisti che in Contrada Sovaretto ci sono nuovamente problemi perché il villaggio turistico di Sciacca Mare che si approvvigiona da quel serbatoio avrebbe lamentato che il ritorno all'approvvigionamento da parte degli autobotti rischia di ridurre il fabbisogno degli alberghi. Per quanto riguarda invece l'appresamento di Contrada Ferraro da dove veniva erogata acqua 24 ore al giorno, improvvisamente questa mattina l'erogazione si è fermata. La situazione rimane complicata e gli autobottisti dicono che la gente se l'è presa con noi, continua a prendersela con noi. Abbiamo trovato un accordo, però se l'acqua non esce dai bocchettoni come facciamo a soddisfare le richieste? Signor Venezia, voi siete un po' il parafulmine del malcontento. La gente se l'è presa con voi, ma voi dite che non è colpa nostra. Purtroppo è così, perché è come se noi fossimo d'accordo non so con chi e con quale persone, ma noi siamo qua, siamo a disposizione dei cittadini, come siamo stati sempre a disposizione dei cittadini. Però dobbiamo avere le possibilità di andare a caricare e portarele a quale persone. In questi tre appresamenti che vi sono stati indicati la situazione non è delle migliori? E allora, in zona Ferraro non c'è l'acqua, è secca stamattina. Quello normalmente è un serbatoio sempre alimentato, no? Io non ci hanno detto di andare lì a caricare e la ditta Montalbano ha caricato, ma ha caricato niente, ha caricato con circa 10 metri cubi di acqua e si è fermata. Quindi è tornato indietro con metto autobotti. Qui a Roccherosse? A Roccherosse ci stiamo circa 16-17 minuti, quindi per caricare quattro camione vedete quanto tempo ci vuole. Mentre a Sitasi ci sono scese due camioni e mangia già, sono venuti lì al punto di carico e la pressione è bassa, non possono, hanno problemi sui piani alti e quindi già ci sono problemi pure a Sitasi. Lì c'è il problema che c'è stato e ora è peggio. Io dico cosa dobbiamo fare noi, dobbiamo lavorare, ci dobbiamo fermare, non lo so, ci diranno indicazioni ben precise. E noi eseguiamo. Posso chiederle per ora a lei quante richieste di intervento ha ricevuto? Che lista ha? No, io la lista non prendo più prenotazione perché nemmeno rispondo nemmeno più a telefono. Perché tra i clienti che non sono collegati a rete idrica perché non c'è rete idrica e poi tutti quelli che sono allacciati a rete idrica e non hanno acqua e che non c'è ripacqua, io mi sono rifiutato di rispondere al telefono sinceramente. Non so cosa dirgli, non perché non voglio parlare con le persone, che cosa gli devo dire? Il problema è la pressione, se non ci sono i punti di carico, ce ne hanno dato tre, ma due sono già fuori uso. Io stamattina sono andato contro la Ferrara con l'autobotta grande e non ho potuto caricare, sono andato con mezza autobotta meno. Poi alla SIDAS poco fa non ho potuto caricare neanche, infatti ho andato a posare l'autobotta grande e l'ho posata perché non serve. Ora ho preso quello piccolo, sono qua a 10-15 minuti e metterli all'autobotta. Noi non sappiamo più le richieste, come poterle esaudire. Anche lei che lista per ora? Ma guardi, c'è una lista qua fino a mercoledì, giovedì, ma ne sei presa il conto, guardi. Senta, voi conoscete benissimo la situazione, l'acqua sciacca c'è, evidentemente per ora questo razionamento costringe, tra virgolette, la città a mettere a disposizione acqua degli altri comuni. È possibile che possa essere questa la spiegazione? Ma guardi, io non voglio ingiare nei meriti, non voglio rispondere a questa domanda perché anche se la posso sapere o non la so, non lo so, giusto? Io non rispondo a questo, io dico solo una cosa, che qualcuno l'altra sera ci ha accusati che noi stiamo facendo, come si suol dire, un ricatto che la pressione, non è vero che la pressione non c'è, vi siete fermati per la pressione, se volete caricare io la pressione ve la mando, ma questa pressione non è, non è. Io invito tutti questi signori che dicono che ci sono questi punti di carri a venire qua e vengono a vedere per caricare i tempi che ci vogliono, fino a che corre però. Immaginiamo che anche la sua lista d'attesa di clienti che le hanno telefonato sia lunga. Sì, ormai non si capisce più niente, da 15 giorni che il mio telefono, a 12 ore al giorno non si può più gestire questa cosa. Poi siete stati fermi, avete ripreso, abbiamo detto tutti contenti che il problema è stato risolto, invece? Invece ancora manca acqua nei condomini, ancora ci sono ritardi, gente che è disperata, gente che non ha raccioirico, gente che non sa cosa fare. Prima ci hanno liberato ieri, oggi siamo ripartiti, ci sono altre novità su Facebook, su internet, vediamo nuove notizie. La gente è confusa, però quello che consiglio l'amministrazione AIRA non vuole gestire una bomba del genere in pochissimo tempo. Gli uffici intasati, quando rispondeva l'operatore, una cosa diversa perché neanche loro erano pronti a gestire questa situazione. Quindi il censimento penso che non lo possano fare in due giorni, ci vogliono i tempi tecnici. Quindi per ora cerchiamo di arrivare al disagio e poi siamo qua. Speriamo che lunedì qualche cosa succede, perché se lunedì siamo in queste condizioni non so cosa dobbiamo fare. Però ci mettiamo qua in fila e quello che facciamo, facciamo. Quindi poi chi di dovere si prende le loro responsabilità.